Ladies and gentlemen, we are pleased to present to you the Comedy Radio Show! E al Comedy Radio Show è arrivato il momento di fornire un servizio utile per il sociale, ossia ci colleghiamo con l'ufficio vendite, pronto? Pronto Mario, eccomi qua, allora sembra quello che te serve, io non posso mettere qualsiasi cosa, eh? Allora, diciamo che detto così sembra un po' una cosa losca. No, no. Abbiamo chiamato il vostro ufficio vendite perché abbiamo molti ascoltatori che ci richiedono degli oggetti, delle... Poi è tutto regolare, tutto regolare, abbiamo spaccato la porta dell'appartamento, ci siamo messi dentro questo ufficio, vendevo tutta roba urbana. È regolarissimo! Siamo veramente regolati, guarda te posso vendere, questa è un'ultima novità, abbiamo preservativi alla frutta per rapporti che stanno finendo, veramente, guarda, quindi... Alla frutta in quel senso di... E certo, perché se pensate, sono l'ultima generazione, se non me te le posso vendere in un'altra mente, ma c'è messo un po' a capirla. Grazie a tutti!